Quando si parla di migranti si parla quasi sempre soltanto di numeri, quanti gli arrivi, che percentuali profughi, quanti quelli che fugono da economie disastrate e ci si dimentica delle storie. L'aula del Consiglio Comunale di Cesena si è zittita nella seduta di giovedì per ascoltare il racconto dell'ivoriano Soumaro Issa, ospite nel centro di Oriola, che ha perso famiglia e lavoro. Voi conoscete la guerra attraverso la televisione, non sapete di cosa parlate, ha gelato l'assise l'uomo, aggiungendo, non so cosa avrei fatto senza la vostra accoglienza. Sono 18 le strutture che accolgono 230 richiedenti e asilo nell'Unione Valle Savio, un modello definito diffuso di cui l'amministrazione comunale di Cesena va fiero perché evita di concentrare gli ospiti stranieri in un unico punto. Al suo interno corsi di italiano e mediazione culturale, oltre al volontariato dei migranti. Sulle politiche di accoglienza rimane invece molto critica la Lega. Siccome sembra che ci sia una cortina così fumogena, ci sia molta nebbia, ci sia molta opacità nel fornire ai cittadini e alle istituzioni queste informazioni, abbiamo scalato tutto e siamo andati direttamente al Ministero dell'Interno con un'interrogazione specifica che riguarda la misericordia della Valle Savio, dove in questi giorni sembra che ci siano e siano in arrivo decine e decine di clandestini. Ripeto che i clandestini poi secondo noi non sono, ma sono semplicemente, scusate, profughi non sono, ma sono semplicemente clandestini o se qualcuno li vuole chiamare in maniera più elegante, migranti economici.